Io sono Antonella Fortuna e sono onorata di presentare qui oggi il dottor Peppe dell'Acqua. Molti di voi lo conosceranno già, ma mi preme dire qualcosa di lui in una piccola scheda tecnica e poi oggi presenteremo il libro Non ho l'arma che uccide il leone. Quindi scheda tecnica, il dottor Peppe dell'Acqua è stato per 17 anni sino al 2012, mi correga se erro, direttore dei servizi psichiatrici di Trieste, quei servizi che nel lontano 71, 7 anni prima della legge 180, avevano aperto e chiuso definitivamente le porte del manicomio. E' testimone vivente della trasformazione dell'idea della follia da contenitore isolato di 1200 prigionieri sino al life approach, ovvero una visione olistica che considera la persona inserita nel suo contesto naturale. Insegna psichiatria sociale presso l'Ateneo di Psicologia di Trieste. E' consulente scientifico a livello europeo e delle Americhe, ha pubblicato il manuale Fuori come va, Famiglie e persone con schizofrenia, riedito poi dalla Feltrinelli nel 2010. Sto andando bene? Perfetto. Nel 2007 pubblica Non ho l'arma che uccide il leone, è stato inoltre consulente scientifico della RAI ed è tuttora impegnato nel campo dell'editoria come direttore della collana 180 archivio critico della salute mentale. Questa è un po' una piccola scheda e entriamo nel vivo del libro. Agosto 1971 il dottor Franco Basaglia diventa direttore dell'ospedale psichiatrico San Giovanni di Trieste che porterà poi alla chiusura dei manicomi con la legge 180 del 78. Ascolto, empatia, porte aperte, persone libere, queste le parole ispirate. Peppe Dell'Acqua all'epoca era un giovane psichiatra salernitano, baffuto ed energico. Inizia la sua storia tra 1200 prigionieri, camice di forza, elettroshock, stanze imbottite, tra persone ignorate e respinte nella sofferenza. In un luogo non luogo in cui i codici affettivi si scontrano con i contesti burocratici, dove non entrano le speranze, la fiducia ed il coraggio. Allora il dottor Dell'Acqua, per tutti Peppe, crede che la libertà è terapeutica, il lavoro può rendere liberi e in sella Marco Cavallo, che galoppa verso il fuori, azzurro come i cieli aperti in cui andrà ad inondarsi, spalanca le porte dei luoghi reclusi e rompe i vetri perché entri il mondo. 1974, i concerti in manicomio, gli artisti, il cinema, con l'armonica di sottofondo di Rosina, perché escano le vite non vissute a vivere. Dottor Peppe, nel libro Non ho l'arma che uccide il leone, durante le prime pagine, ci racconta l'immobilismo del malato mentale e del suo spazio vitale, mobili ed internati non vanno spostati. Così, in comparti stagni troviamo i reparti dei sudici, dei frenastenici, con Michele che cammina intorno e si urina addosso nei disagi. Un immobilismo controllato dalle terapie shock, che violentano l'equilibrio dell'organismo, coma insulinico, febbre malariche, indotte con l'obiettivo di determinare prostrazione, sonno profondo e sedazione. Ci racconta un po' gli esordi del controllo in psichiatria? Beh, intanto devo dire a tutti voi che è una bella emozione essere qui, aver visto per questa mezz'ora quel poco che ho potuto vedere, e il vostro lavoro, e la passione del vostro lavoro, che in qualche modo la conferma che è possibile, come appunto abbiamo cominciato a pensare ormai 50 anni fa, che è possibile fare diversamente. Io devo solo della tua presentazione precisare una cosa, che io non sono solo in questa storia, non ci sarebbe stata, non avrebbe potuto esserci, non ci sono attori protagonisti. La fortuna di questa storia è stata la partecipazione, il coinvolgimento, il conflitto anche quotidiano di centinaia e centinaia di persone, di giovani come quelli che vedo qui adesso, che eravamo noi 40 anni fa, e cittadini, politici, amministratori, e questa è la dimensione del cambiamento. Nessuno di noi deve, ma neanche lontanamente, immaginarsi di poter cambiare un briciolo dentro quelle mura, dentro quelle culture, così tetragone, da solo. Basaglia ha cercato di fare tutto questo. Basaglia si è reso conto della fragilità, della debolezza che avrebbe portato al fallimento, la sua dimensione di tecnico, di medico, di direttore, ed è dal momento in cui ha accolto questo appunto a Gorizia che lo sguardo, il pensiero è diventato lungo, largo, proprio perché era evidente che aprire una porta significava certo infilare una chiave e aprirla, ma aprire una porta significava soprattutto restituire una possibilità, una dimensione di relazione tra le persone. Chi sta dietro una porta non ci appartiene, è fuori di noi, e dietro quella porta chiusa si esercitano tutte, come voi credo sappiate, tutte le mortificazioni, gli annientamenti. Quindi aprire una porta significa cominciare ad aprire una cultura di scambio, di presenza reciproca, di un tentativo infinito che non ha mai esito di riuscire ad avere un rapporto paritario, perché non si finisce mai, non si finisce mai. Parlo anche del rapporto medico-paziente, molti giovani si immaginano che dall'oggi al domani siamo fratelli, siamo uguali. Il problema è vedere come affrontiamo tutto ciò che c'è di mezzo, sul piano istituzionale, sul piano della scienza, sul piano appunto dello sguardo dal quale dobbiamo liberarci, della psichiatria, della psicologia, e così avanti. Ma tu mi stai domandando come comincia questa... La storia è bella, ma è anche lunga, potrei intrattenervi per molto. Quello che certamente è necessario, fai bene a chiedere questo, a chiederti questo. La psichiatria nasce nel momento in cui la follia smette di vivere in mezzo a noi. La psichiatria nasce nel momento in cui Filippinelle, tanto per dire, il grande direttore, fondatore della psichiatria moderna, direttore degli ospizi di Bissetre, di Salpetriere a Parigi, definisce la malattia mentale. I folli diventano malati di mente. La ragione, finalmente, la ragione che diventa dominante con la rivoluzione francese, con lo Stato borghese, con lo Stato di diritto, lo Stato non può tollerare la presenza di questa follia, di questo disordine, di questo sragionamento. E la ragione assume il sopravvento. La ragione si appropria della follia e la follia diventa malattia mentale. E' da qui, visto che voi parlate dell'uomo nero, è da qui che un uomo che nero non era, era di peggio, era di più, era di meno, se penso alle streghe, che per essere quello che erano sono morte al rogo, però sicuramente non erano dentro una cornice, altro che cornice, un muro, una muraglia definitoria che li ha costretti da quel momento, ad oggi, a stare al di fuori, perché appunto malati di mente. Quando Basaglia dice dovremmo essere capaci di accogliere dentro di noi la follia, o quando dice che un'organizzazione sociale è tale nella sua capacità di rapportarsi con l'altro, quando riesce a vedere dentro questa organizzazione la ragione come la sragione, la follia come la normalità, dice esattamente questo, dice che da un certo momento in avanti noi abbiamo costruito milioni di oggetti paurosi, di oggetti pericolosi, che hanno, come sapete, da quel momento, io non mi posso dilungare molto, ma da quel momento gli istituti manicomiali che avevano già cominciato a essere quasi tali prima della rivoluzione francese sono diventati una diffusione interminabile. Mi viene da dire una pandemia, quando si dice ma la malattia mentale è contagiosa, è ovvio che la domanda è ridicola, devi rispondere no, però se pensi soltanto per un attimo ti viene da pensare che la malattia mentale è la più contagiosa di tutti, perché nel momento in cui è stata scoperta, è definita, si è diffusa, i manicomi l'hanno portato dovunque, nelle terre d'oltremare delle Americhe come nell'Estremo Oriente, il Giappone ha resistito fino alla fine dell'Ottocento, poi ha mandato due psichiatri da Kreppelin a Monaco di Baviera a studiare il manicomio di Monaco e hanno costruito il manicomio di Tokyo che è uguale e identico a quello di Monaco di Baviera come pure gli architetti argentini che hanno costruito un manicomio a Olinda, a Oliva, vicino Rosario, nella Pampa, che ha i tetti barocchi, campanile a punta, è come se fosse un pezzo di Baviera trapiantato lì. Dunque, che cosa è accaduto? È accaduto che da quel momento la storia, la vita, le prospettive di chi entrava in questo nuovo ambito che è diventato un recinto, che è diventato un paese separato. I manicomi hanno avuto, se vedete quello di Trieste che io conosco fino nelle pieghe, è un inno all'utopia del poter vivere al di fuori, in una sorta di città del sole, in un paese altro, dove tutto si definisce a quell'interno e non ha niente a che vedere col fuori. Si stampano le monete, si fa il pane, si fa la cucina. È la città della città dei matti, c'era una volta la città dei matti in via San Cilino a San Giovanni che è lì. Ed è stata grande questa fantasia utopica e paternalistica, si direbbe, nel costruire tutto questo. Ci siamo resi conto due anni dopo, due secoli dopo, quasi, che quel paternalismo, quella buonaria attenzione dei nostri nonni a costruire questi istituti che sono, ripeto, maestosi, se vedete Vienna, l'uomo senza qualità, tanto per dire, o quelli della Mette dell'Europa tutti, ma anche quelli che sono stati costruiti in America, hanno tutti avuto questo mito dell'utopia dell'altro luogo. Ebbene, tutto questo ha prodotto questa radicatissima, che sembra assolutamente irradicabile, ecco, dimensione del malato di mente come altro assolutamente, come alieno, e su questo, e per questo, le culture scientifiche hanno speso i migliori cervelli per distruggere le persone. La psichiatria continua in questa opera di distruzione, con la diagnosi, con, ancora una volta, i luoghi blindati e recintati, con le contenzioni, che non sono altro che quelle stesse cose che abbiamo visto 50 anni fa e che forse non vedevamo 150 anni fa perché l'immagine paternalistica del manicomio era ancora possibile, mentre invece col Novecento è diventata l'immagine della medicina, del medico, del camice bianco, del letto, no? Voi immaginatevi che la salute mentale ancora oggi noi la misuriamo in quantità di posti letto. che cazzo c'entrano i posti letto con uno che ha un disturbo mentale me lo devono sempre spiegare. Abbiamo 20 posti qui, 30 posti lì, 50 posti, a fare che? Capite, adesso io ogni tanto penso a certe cose che mi fanno stare. Beh, va beh, insomma, quindi comincia da lì, comincia da lì ma diventa una storia croenta, dolorosa, ma è inutile che ve le dico le cose, insomma, ecco, basti pensare che quella cultura è diventata negli anni 20 e 30 nelle mani di un giurista berlinese e di uno psichiatra berlinese Bendingeck è diventato il substrato del progetto di annientamento dei disabili, dei malati di mente, degli schizofrenici cronici, il progetto di T4 che noi lo immaginiamo come qualche cosa di estremo, di assolutamente folle dentro una follia che era di quel momento storico ma che a pensarci bene ha una quantità di esempi in giro in quel momento e dopo e che continua ad essere in qualche maniera il modello, il paradigma ecco, scientifico che continua a funzionare ecco perché se no, insomma, no, questo investimento così straordinario sui farmaci perché se no il terapeutico della psichiatria diventa prima di tutto quattro neurolettici perché se non per questo tipo di radici e di culture. Oggi sappiamo che tutto questo va abbandonato e distruttivo, distrugge le persone, distrugge le famiglie, distrugge le speranze, distrugge il futuro e tuttavia si continua fermo restando che poi ci sono esempi di quotidiana resistenza come questi e come tanti altri che potrei elencare che ci fanno sempre pensare che abbiamo dimostrato come diceva appunto Basaglia che di occuparsi della follia lo si può fare in altro modo. Poi ci saranno sempre i sapientoni quelli che faranno diversamente ma noi abbiamo dimostrato che è possibile farlo in maniera diversa. Entrando nel vivo del libro che è splendido e vi invito a comprarlo perché insomma è un modo per entrare in un luogo laddove c'è impossibile entrare insomma con questo libro ci si entra e dentro troviamo le storie di vita di Nadia una bambina difficile di quattro anni di cui nessuno vuole occuparsi mai e allora questa bambina chiede le cose sempre più cose e se ne va in giro per vedere ascoltare e cercare ma è fastidiosa e difficile da contenere così Nadia bambina di cui nessuno vuole occuparsi finisce all'OPG di Castiglione con in mano dietro le sbarre una delle sue tante cose desiderate a tenerle compagnia e poi l'infermiere Elisabetta nei suoi 84 anni di vita e tanti di esperienza che arriva all'ospedale civile perché è riverente con le regole e quindi agitata ed aggressiva e infine e infine i quaderni di Maria che è sempre stanca ma insegue il sole che descrive il tempo e cucina per tutti con amore che è sola e a volte sogna dottor Peppe le storie che racconta non possono non far comprendere a tutti il dolore della malattia le vite negate e il diritto di riscrivere i propri copioni la prego ci parli di questi uomini e queste donne attraverso un'emozione ed un ricordo bella questa precisazione finale perché attraverso la memoria si può dilagare ma io devo dire che queste storie sono sicuramente storie che raccontano di un dolore raccontano di un fallimento raccontano di una impossibilità raccontano di tutto ciò che è umano che ci appartiene in quanto umano che è comprensibile nel momento in cui noi ci avviciniamo e che è diventato diventa allora ma rischia di diventare sempre ancora oggi qualcosa che non ci appartiene più quindi Nadia Maria Elisabetta Ondina non sono più persone che raccontano un abbandono un fallimento un dolore un lutto una difficoltà una difficoltà profondissima di vivere ma sono sono espressioni di una scienza che è quella psichiatrica che le ha definite le ha definite io sono psichiatra e devo precisare sono psichiatra e ovviamente cerco di farlo al mio meglio i farmaci penso che siano una buona cosa e credo che la diagnosi possa anche servire per comunicare ma non per definire e inquadrare le persone e metterle via quindi quando parlo di questo vorrei che non capissimo altro insomma non sono antipsichiatra negatore e tutte quelle cose lì sono uno che sta nelle istituzioni da 40 anni e continua a pensare che è necessario starci no dicevo quindi diventano l'immagine e la conseguenza di quella cultura di quella diagnosi di quel meccanismo di quel dispositivo di controllo sociale che non vuole avere non vuole più non può tollerare ciò che mette in difficoltà disordine disturba e come vedete tutte queste persone diventano pericolose no nella nella a seguito della diagnosi no agitazione eccetera è pericolosa per sé per gli altri di pubblico scandalo quella parola pericolosa quell'aggettivo ha sostenuto ha sostenuto tutte le istituzioni ancora oggi mi piacerebbe parlarvi degli ospedali psichiatri giudiziari e della insensatezza di questi luoghi dell'insensatezza del riferirsi continuamente alla pericolosità per distruggere e annientare le persone alla pericolosità qualcosa che non ha niente a che vedere con gli oggetti con le cose che sono accadute ma forse ci arriviamo dopo e Nadia finisce nel manicomio giudiziario proprio per questa ragione disturba talmente tanto che qualcuno un tabaccaio piuttosto che un giocattoliere la denuncia e è uno è uno psichiatra di allora quelli che facevano le perizie per i giudici perché voi dovete sapere che esiste una stretta connessione tra le psichiatrie forensi cosiddette e i giudici ciò che chiedono i giudici è ciò che fanno gli psichiatri o ciò che dicono gli psichiatri quando le cose sono di poco di poca importanza è ciò che fanno i giudici cioè nel momento in cui si finisce in questa morsa psichiatria giustizia si rischia molto si rischia proprio diritto si rischia ogni cosa Nadia fa questo allora se io devo raccontare un'emozione devo raccontare di Maria dovrei raccontare di Maria è una storia che se prendete il libro e la leggete in realtà è una trascrizione di un quaderno quasi illegibile di una quotidianità di Maria che è stata una delle prime persone che ho conosciuto in manicomio e che al di là del fatto che è diventata una persona di cui conoscevo poi le nipoti i figli insomma come accade quando si fa un buon lavoro e si cerca di stare con gli altri ma è diventata anche per me in maniera emozionante la possibilità che di fronte a qualcosa che per esempio la caposala Maria Jelercic mi diceva ma dottore non ci perda tempo perché questa va con le stagioni va con le stagioni significava che lei era eccitatissima produttivissima in alcuni momenti dell'anno è depressissima fino alla morte in alcuni altri è un classico della malattia e della sua organicità e di un cervello che sicuramente salta da una parte all'altra e tuttavia Maria è stata continuando a essere depressa e continuando a essere eccitata è stata una persona che ci ha accompagnato nelle prime uscite al centro di salute mentale di Barcola già nel 76 proprio i primissimi giorni occupandosi della cucina per quello che poteva e per quando poteva ed è diventata una persona quasi come dire che ogni ogni volta che io la incontravo la vedevo anche perché poi ho fatto altre cose era continuamente mi emozionava continuamente per questo per questa possibilità che era evidente in lei per questa scommessa che lei continuamente vinceva e ci faceva vincere perché poi che cosa è il mestiere che noi facciamo ecco se non ci illudiamo di utilizzare i parametri della medicina o della chirurgia la guarigione il togliere il male da qui o di là il nostro mestiere bisogna saperlo è riportare alla infelicità umana che ci appartiene che ci accomuna tutti no? le persone e questo è il punto e allora dare possibilità di vivere malgrado le differenze le diversità i mancamenti le mancanze e così via ecco Maria era un esempio di questo ma per dirti un'altra piccola piccola emozione è il momento in cui c'è questa storia all'inizio di tutte in cui ho conosciuto una signora ormai 73enne 74enne che si chiamava Undina che era lì da circa 40 anni cioè era entrata in manicomio nel 33 nel 32 quando era una giovane donna e per quanto era bella da vecchia doveva essere bellissima da giovane ed era entrata lì e io questo l'ho ricostruito ascoltando le sorelle ascoltando il suo bisbiglio è entrata lì perché si era innamorata di un capitano e tutti gli dicevano ma lascia stare i marinai lascia stare i marinai che prima o poi e lei si era innamorata la passione ecco anche lì la passione amerosa la follia che chiamate il folle amore e come doveva essere il capitano se n'è andato è partita la nave e lei ha cominciato ad aspettare il ritorno e il ritorno non c'è mai stato e lei aspettava e aspettava come sanno aspettare i folli innamorati insomma e siccome il capitano non arrivava lei era sempre lì ad aspettare un bel giorno ha barcato la soglia il portone di San Giovanni e da folle innamorata è diventata una schizofrenica con deliri erotomanici e altre cose di questo genere ecco ho colto queste cose che poi sono le cose che uno immagina che ci siano quando cominci a fare questo lavoro poi era ignorante venivo non sapevo proprio nulla di tutto ciò è davvero un'emozione perché riesci a entrare perché come dire ognuno di noi è innamorato è stato innamorato o vuole innamorarsi e ci sono dei momenti in cui il nostro amore ci fa sfiorare la follia cogli questo e allora in quel momento ecco tu dici l'empatia diventa qualcosa dalla quale poi non puoi più venire fuori cioè una volta che ho colto questo che cosa faccio come faccio vivere ondina posso continuare a pensare che stia dietro quella porta se è diventata una persona di cui addirittura io riconoscendo il suo amore mi innamoro insomma la tengo chiusa dietro la porta e da lì comincia tutto aprire una porta buttare via una chiave restituire diritti faticosamente comincia tutto da lì la cittadinanza comincia quando apro quella porta perché dietro quella porta non c'è più l'internato non c'è più il delirante erotomanico c'è ondina oh mio dio e allora e allora è una cittadina e come si fa ad essere cittadini quali sono i diritti che ondina ha e che io non ho anzi che io ho e che ondina non ha lei non ne ha neanche uno e io li ho tutti e poi la dignità che ho io sono vestito le scarpe penso mi lavo mi vesto e qual è la dignità che io riservo a ondina se la chiudo dentro una gabbia di spago o la lascio nuda in un camerino di isolamento o non mi curo dei suoi capelli dei suoi denti che ho distrutto con l'elettroshock e così avanti e soprattutto che cosa è di ondina se io non approfondisco sempre più e lì la dimensione terapeutica se vuoi disciplinare se non approfondisco sempre più la sua dimensione storica umana ecco quella storia delle navi lo psichiatra oggi di Milano mi dice vabbè è bello è romantico tutto quello che dice io dico che non è romantico dico che è essenziale per me poter vivere vicino a ondina e credo che ondina diventi una parte di questa relazione nel momento in cui io riesco a riconoscere le navi e insieme riconosciamo le stesse navi e aspettare il capitano parlare dei nostri amori del nostro amore ma soprattutto fare in modo che non sia in una dimensione che è una dimensione di relazione una dimensione di diritto una dimensione di singolarità insomma grazie un applauso che bellissimo bello bello quindi 1977 il manicomio chiude con 51 coatti 81 volontari 433 ospiti chiude un mondo con gli aromi mischiati agli olezi dei rifiuti organici le sigarette rullate gli infermieri amici e quelli cattivi i reparti chiusi e quelli dei meno gravi che guardano il cielo da uno scorcio di vetrata i piccioni adottati dalle donne e i gatti cacciati perché non li mangino e Marco Cavallo che trotta lento sotto al peso della biancheria stanco come stanchi sono i matti della malattia a Roiano su quello che era stato un letto di contenzione i bambini ci saltellano giocando è bellissima questa cosa tra canti e balli viene occupata la casa del marinaio 13 maggio 78 approvazione parlamentare della legge 180 che riconosce diritti cittadinanza e dignità alle persone che vivono la malattia mentale i falò di San Giovanni fanno luce sulla casa del marinaio e il posto delle fragole sappiamo cosa si lasciava ma cosa si sperava e cosa si voleva ottenere intanto è emozionante quello che stai dicendo perché ricordi pezzi della nostra vita c'è qui mia moglie con la quale abbiamo fatto queste cose e i letti di Roiano ce li ricordiamo tutti e due con i bambini che saltano dentro i letti Roiano è un rione di Trieste dove si era aperto il primo centro di salute mentale e facevamo un'azione pubblica di informazione con appunto con questo cantastorie poi che è stato fatto che c'era una volta la città dei matti appunto e che cosa volevamo beh insomma io credo che io credo che non era mai tanto chiaro quello che volevamo io devo dire quello che Basaglia voleva io ero veramente un ragazzino insomma aspettate che non ho chiuso il cellulare e lo faccio ecco scusate era evidente che quello che volevano perché qui forse bisogna partire da da un punto che per me è l'origine apro e chiudo una parentesi tutte le cose che mi hai che hai ricordato sono adesso ma non solo questo con una quantità di documentazione di riflessioni di grande importanza di un libro di questa collana che è uscito neanche un mese fa di cui sono molto orgoglioso che è a cura di Franco Rotelli che è stato uno dei leader del nostro del nostro lavoro e che ha raccolto proprio un percorso di pensiero ecco come tutte queste cose perché queste cose che si raccontano così si apre una porta parlo con l'ondina delle navi vedete sono tutte conseguenze di un pensiero di un paradigma di un modello che si rompe che ostinatamente si rompe la domanda che cos'è la psichiatria angosciosa di Basaglia quando entra a Gorizia è questa ma com'è possibile com'è possibile che questa psichiatria che si dice una scienza che si dice vicino alla medicina che si dice che vuol curare com'è possibile che abbia prodotto in neanche cento anni milioni e milioni di annientati di oggetti è una domanda che Basaglia si può fare perché ha letto si è interessato lo chiamavano il filosofo nella facoltà di medicina di Padova si è interessato a Sartre Heidegger è stato tra i primi a leggere in Italia Foucault quando è stato tradotto nel 61 e allora questa domanda è una domanda che non può avere nessuna risposta se non quella rigorosa onesta di capovolgere distruggere quell'apparato scientifico è quello il punto quando Basaglia entra a Gorizia io forse posso dire da qui che per me è un inizio quando entra a Gorizia quando entra a Gorizia vuole andare via subito a 36 anni è stato mandato via dall'università in pratica perché appunto era un po' diverso dagli altri era bravo non lo si poteva mettere fuori allora si era nominato direttore a Gorizia ai confini dell'impero allora ecco pensate Gorizia negli anni 60 il muro di cinta di Gorizia era era il confine con la Jugoslavia ma non mi dilungo Basaglia entra lì e quello che vede è orrendo è inaccettabile per lui vuole andare via e che cos'è orrendo non quello che possiamo immaginarci e che è anche orrendo la reclusione i letti a rete le porte chiuse le chiavi gli elettroshock gli uomini e le donne contenuti per giorni e giorni ai letti le camicie di forza non è questo quello che rende inaccettabile a Basaglia restare in quel luogo da direttore peraltro dici io non potrei fare altro che diventare complice di questo orrore e semmai abbellire ecco imbiancare le pareti è l'assenza è la mancanza non c'è più nessuno in questo luogo ci sono 500 internati e Basaglia dice non c'è più nessuno cioè non c'è più nessuno col quale o con la quale io posso stabilire una relazione perché sono ormai tutti annientati messi da un'altra parte ecco sono internati appiattiti in una identità unica che non ammette nessuna sbavatura gli uomini e le donne che hanno delle relazioni bonarie con il personale sono vittime di una violenza che è quella del paternalismo vieni che ti faccio lavare per terra vieni che ti faccio pulire la verdura vai a casa del direttore che lavi i piatti no? e questo è ecco il resto è internamento annientamento Basaglia vuole scappare via per fortuna mia forse di tutti resta proprio pensando che è possibile e questa è l'operazione del dove vogliamo arrivare è possibile forse mettere di lato sforzarsi intanto cambiando lo sguardo la malattia la metto via è il famoso la sospensione di giudizio il tra parentesi insomma questo dire la malattia tra parentesi di Basaglia gli è costato poi le accuse della stupidità di miliardi di psichiatri di opinionisti di preti di stupidi qualsiasi Basaglia nega la malattia mentale non c'è la malattia mentale Basaglia è uno psicopatologo straordinario sa di quello che sta parlando dice solo metto di lato come faccio a scoprire che Ondina è innamorata se resta l'immagine della schizofrenia e del delirio erotomanico ecco è questo che comincia a muovere allora le persone i cittadini come ho detto prima i soggetti cominciano ad apparire nel momento in cui io faccio questa operazione quindi non è un'operazione come dire di aprire una porta la porta la apro dopo è un'operazione che mi permette di cogliere con uno sguardo diverso ecco quelli che oggi io chiamo soggetti persone cittadini che fino a quel momento lì erano l'internato punto neanche lo schizofrenico perché spariva anche lo schizofrenico era internato insieme a qualsiasi altra cosa ecco in questo appiattimento di identità un'identità unica e piattissima ecco quando io vedo che Ondina è innamorata scopro un'altra identità e su quell'altra identità comincio a cogliere qualcosa una possibilità di relazione una possibilità di conflitto anche all'interno della storia di Ondina ma soprattutto un motore formidabile per aprire una porta per restituire i vestiti le scarpe gli orecchini il pettine la parrucchiera c'è un straordinario che adesso si è fatto una mostra antologica di uno straordinario pittore disegnatore che è Ugo Guarino che è quello che ha fatto per tutta la vita i Franco Bollini del Corriere della Sera lui è stato con noi a lavorare in quegli anni cruciali e ha disegnato tanto e le cose sue sono più molto più espressive di quello che dico per esempio rispetto alla diagnosi e alla piattezza dell'identità lui ha disegnato un manichino che ha un vestito cortissimo ma questo manichino che parla è un internato che ha un vestito cortissimo e il manichino dice ma non c'è nessuna necessità di allungare il vestito basta accorciare l'internato e capite cosa vuol dire questo ho appunto la donna spettinata che urla sempre più forte sempre più forte voglio un pettine voi capite i bisogni e poi Marco Cavallo i desideri ecco da qui nasce le cooperative sociali la prima cooperativa di lavoro del 72 parte tutto da lì parto tutto da questo riconoscimento ecco per me se io dovessi dirti la cosa più straordinaria che io posso raccontare e che sono stato fortunato a poterla vivere è stata questa cioè far seguire ai sogni degli anni 60 alle fatiche come dire proprio del primo lavoro di allora cioè del pensare diversamente di togliersi di dosso il camice voi capite che noi venivamo da un'università che ci faceva camminare dietro al professore tutti in fila eccetera 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 ma fatto questo come come in maniera quotidiana costante tu devi tieni conto di quello che hai detto prima cioè per il gruppo per quello che è stato anche il cambiamento in Italia ma per noi senz'altro non può esistere una sola affermazione teorica se non è surrogata da una evidenza di ciò che veramente si fa se si dice la contenzione terribile l'annientamento e lo dicono tutti anche qui nelle Marche in questo momento ci sono giovani uomini e donne contenuti e quelli che lo fanno dicono che hanno letto Basaglia che sono basagliani che parlano con i governi di sinistra e di destra facendo queste cose qui e che cos'è la contenzione se non questo questo non so dirlo perché direi cattive parole perché in questo momento siamo impegnati in una campagna per l'abolizione lo dico ridendo ma bisogna fare uno dei libri che stanno lì è il nodo della contenzione appunto perché e dico la contenzione per dire le porte chiuse dico la contenzione per le terapie farmacologiche con 4-5 neurolettici non dico sciocchezze me la faccio raccolta di queste cose qui dolorosamente sono raccolte non gioiose insomma quindi io credo che da lì nasce tutto e da lì quello che volevamo era questo fare in modo che potessero entrare nel contratto malgrado tutto uomini e donne lavoro senza lavoro casa senza casa famiglia senza famiglia e lavorare su questo tenendo continuamente sull'angolo la malattia volevamo questo e da lì ovviamente sono venute fuori le cose che sono venute gli strumenti per farlo le risorse per farlo le scelte amministrative per farlo le scelte economiche quando era possibile per farlo il danaro per esempio insomma no? va beh questo grazie concludiamo con un'ultima domanda quindi una narrazione che inizia nel descrivere le fissità delle vite e delle azioni e continua oggi inarrestabile nello slancio e la volontà di muovere tutto verso il diritto alla vita a che punto siamo e cosa ognuno di noi può e deve fare per evitare che Marco Cavallo arresti il suo andare pensiamo alla chiusura degli OPG e all'apertura delle REMS e quindi si apre una realtà insomma premessa spero che Marco Cavallo non smetta mai di correre perché le storie di cui parliamo sono storie senza fine si collocano in una dimensione conflittuale che è quella che abbiamo evocato quando nasce la psichiatria insomma normalità follia c'è sempre nessuno di noi deve pensare che ci sono soluzioni lo hanno pensato gli psichiatri dell'ottocento a risolvere e tutte le soluzioni che si cercano e si trovano e si applicano in psichiatria sono quelle che sappiamo quindi il cavallo deve continuare a correre perché è l'incertezza che deve continuare a camminare e devo dire che questo libro vedo che coglie le storie che sono una prima parte questo libro è un libro dove si dice di quello che si fa e di quello che si può fare qualcuno lo ha definito un libro in cui c'è una sorta di repertorio un microcosmo del cambiamento proprio la microfisica dei passaggi che sono l'aprire la porta prendere il sussidio costruire una cooperativa sociale far cambiare ruolo agli infermieri costruire forme di convivenza differenti insomma e tutto questo accade in quegli anni 70 e questo libro ha questo senso sostanzialmente poi dovrei raccontarvi cose come ma non lo faccio e il nono l'arma che uccide il leone è proprio questo insomma e porsi continuamente di fronte all'altro disarmato e voi capite bene forse qui lo capite meglio che in altri luoghi che abbassare le braccia e essere disarmati significa che è il momento in cui puoi cominciare a fare qualcosa questa questa nono l'arma che uccide il leone viene fuori con Giuliano Scabbia in un momento al centro di salute mentale dove lavoravamo c'è il risultato internazionale di alternativa alla psichiatria noi di quel centro dobbiamo parlare di alternative alle istituzioni e lo facciamo facendo una cosa alternativa all'istituzione un cantastorie che per tre giorni gira per la città mentre stiamo facendo questo entra una donna che arriva da casa con una grande angoscia con un grande dolore il centro di salute mentale come è adesso era allora un luogo aperto in entrata in uscita senza carte come dire senza burocrazia che è un'altra delle cose che facciamo fatica a mantenere oggi dappertutto perché c'è un'amministrazione oggi che stringe sempre più il manicomio non lo riapriamo ma lo ricostruiamo con le carte le delibere le determine tutte quelle cose lì tutte cose importanti insomma arriva questa signora e ci vede che stiamo lì che parliamo e qualcuno le domanda come va che cosa c'è e lei dice che sta molto male che si sente come devastata dentro come se avesse un leone che mi mangia il cuore che mi morde e da lì prende l'entega sillabo che se ho un leone che mi mangia il cuore ho una biscia che mi morde il piede se cerco il mare di Shanghai o di Hong Kong o se una volta mi innamoro di te dice tu psichiatra cosa fai rispetto a questo ed è lì che c'è come dire come vedete poi queste forme del teatro del cantastorie del cinema riescono a comunicare tantissimo e lo psichiatra dice ci mettiamo ma che gli rispondiamo e rispondiamo che io non ho l'arma che uccide il leone che per la biscia non ho il bastone e se a Hong Kong non possiamo volare ma se qualcosa da fare c'è non è non è controllare non è rinchiudere o è fare un'altra cosa insomma tu mi domandi Marco Cavallo Marco Cavallo due anni fa credo che tutti sappiate chi è Marco Cavallo ma non me lo domandate perché se no non ve ne faccio andare più via ha fatto il giro per tutti i manicomi giudiziari e ha sostenuto in maniera formidabile la battaglia per la chiusura ecco questo è un punto se lo si può affrontare ovviamente con più tempo ma diventa cruciale per il discorso che stiamo facendo l'ospedale psichiatrico è straordinariamente importante che si sia arrivato al punto dove si è arrivato cioè che si è detto che si deve chiudere e che si sta chiudendo e tuttavia tutto quello che si è fatto è ancora dentro un codice penale che è quello del 1930 dove appunto la pericolosità sociale cioè la paura dell'uomo nero è costitutiva insomma e allora allora quello che sta accadendo ora è che la spinta alla chiusura sta mettendo in evidenza i ritardi e le fragilità dei servizi salute mentale in tutte le regioni d'Italia le REMS cioè questi luoghi le residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza che avrebbero potuto anche se nessuno di noi le vorrebbe essere dei luoghi reali di cambiamento diventano dei luoghi di amplificazione di moltiplicazione di tutti i meccanismi dettati dalla insensatezza della pericolosità della misura di sicurezza e così via a che punto siamo siamo che è dimezzata la popolazione negli ospedali psichiatrici che le regioni stanno affrontando un problema taluna con una certa capacità tal'altra sommerse dalla loro incapacità però sta accadendo questo quando c'è qualcuno che dice ma come ci stanno ancora 400 persone e io dico ma sapete che la legge di chiusura è dal 31 di marzo dunque aprile maggio e giugno sono tre mesi e sono accadute tantissime cose in questo io sono ottimista sono un po' più pessimista sul fatto che le psichiatrie su questo parlo delle psichiatrie non parlo delle comunità non parlo dei cittadini non parlo delle persone non parlo neanche degli amministratori che si dimostrano dal 31 di marzo dunque aprile maggio e giugno sono tre mesi e sono accadute tantissime cose in questo io sono ottimista sono un po' più pessimista sul fatto che le psichiatrie su questo parlo delle psichiatrie non parlo delle comunità non parlo dei cittadini non parlo delle persone non parlo neanche degli amministratori che si dimostrano più capaci attenti parlo delle psichiatrie che continuano a mantenersi su questi su questi paradigmi la malattia mentale la pericolosità e gli psichiatri continuano a fare questo a dire che le persone sono pericolose e quindi e quindi credo che esperienze come queste se parlassimo di più del vostro lavoro del lavoro che si fa a Trieste dove c'è una rems basagliana aperta dove il maresciallo dei carabinieri ha detto voi non ti preoccupate noi stiamo qua se qualcuno se ne va per la verità non ci sta nessuno di Trieste non abbiamo mai avuto nessuno adesso abbiamo due persone di Udine lì dentro ma che stanno insieme agli altri è un centro di urno dove si fanno le cose che fate qui un po' meno che la prossima settimana ci sta un concerto di un'orchestra europea che chiama lì chiamerà lì tutta la gente a fare a parlare di queste cose dunque si può fare come vedete però le psichiatrie continuano io comunque sono speranzoso penso che ce la faremo è già un bel passo quello che abbiamo fatto poi dobbiamo fare i conti appunto con questi nodi duri dei modelli e delle culture psichiatriche va beh basta così al dottor pepe dell'acqua io direi di concludere se c'è qualche domanda altrimenti sappiate che in fondo troviamo il libro splendido splendido perché io l'ho letto è bello bello tanto è uno splendore c'è qualcuno qualche domanda oppure possiamo chiudere qui sappiate che se fate una domanda poi andiamo avanti andiamo avanti all'infinito ma andate bene bene dal fai va bene va bene grazie grazie a tutti